Pocahontas, una principessa rivoluzionaria. Pocahontas è una delle figure più iconiche della storia americana. È stata una principessa Pauatan, figlia del capo Pauatan, che ha vissuto nel XVI secolo. È famosa per la sua bellezza, la sua intelligenza e la sua abilità nel negoziare la pace tra i coloni inglesi e i suoi compatriotti Pauatan. Pocahontas è nata intorno al 1595 nella colonia di Jamestown, in Virginia. Suo padre, Pauatan, era il capo di una confederazione di tribù Pauatan che vivevano nella regione. Pocahontas è stata cresciuta come una principessa Pauatan, apprendendo le tradizioni e la cultura del suo popolo. Era anche una donna molto intelligente e curiosa, ed era interessata a imparare cose nuove. Nel 1607, i coloni inglesi arrivarono a Jamestown. I coloni erano alla ricerca di oro e di una nuova vita, ma non erano preparati per il duro lavoro e le difficoltà della vita in America. I coloni e i Pauatan iniziarono a scontrarsi, e la guerra sembrava inevitabile. Nel 1609, il colono inglese John Smith fu catturato dai Pauatan. Smith fu portato alla presenza di Pauatan, che lo condannò a morte. Pocahontas, tuttavia, si interessò a Smith e lo salvò dalla morte. Secondo la leggenda, si gettò tra Smith e l'esecuzione, dicendo a suo padre che avrebbe preferito morire invece di lui. La storia di Smith e Pocahontas è diventata una leggenda americana, e la loro amicizia è stata vista come un simbolo di speranza e di pace. In realtà, non ci sono prove che la storia sia vera, ma è comunque una storia affascinante che ha contribuito a rendere Pocahontas una figura iconica. Pocahontas ha continuato a giocare un ruolo importante nei negoziati tra i coloni e i Pauatan. Ha aiutato a garantire la pace tra i due gruppi per diversi anni. Nel 1613, Pocahontas fu rapita dai coloni. Fu costretta a convertirsi al cristianesimo e a sposare un colono inglese, John Rolfe. Pocahontas e Rolfe ebbero un figlio, Thomas, che fu il primo bambino di razza mista nato in America. Pocahontas morì nel 1617, all'età di 22 anni. La sua morte fu un colpo per entrambi i popoli, Pauatan e inglese. Pocahontas è stata una figura importante nella storia americana. È stata una donna forte e coraggiosa che ha lottato per la pace tra i suoi compatrioti Pauatan e i coloni inglesi. È anche un'icona della cultura americana, e la sua storia continua a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo. Pocahontas nella cultura popolare. Pocahontas è stata rappresentata in molte opere di cultura popolare, tra cui film, libri e opere teatrali. Il film Disney del 1995 e Pocahontas è uno dei ritratti più famosi di Pocahontas. Il film presenta Pocahontas come una donna giovane e bella che si innamora di un colono inglese. Il film è stato un successo commerciale e ha contribuito a rendere Pocahontas un personaggio ancora più iconico. Pocahontas è anche stata oggetto di numerosi studi storici. Gli storici hanno cercato di saperne di più sulla sua vita e sulle sue azioni. Le loro ricerche hanno contribuito a creare un quadro più completo di questa donna affascinante e importante. Grazie. 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 Grazie.